Il festival della ricorda per forner solisti è nato nel momento in cui ci siamo resi conto che in Italia difficilmente riuscivamo a vedere in teatro questo tipo di danza e ci siamo chiesti come mai e quindi abbiamo pensato di proporlo. Vogliamo attraverso questo festival interrogarci e interrogare sulla danza senza il tentativo frettoroso di raggiungere delle risposte. Grazie per la visione!